La tutela dell'imprenditore sfortunato La identificazione di una nuova figura che è l'imprenditore sfortunato ma inadeguato. Poi c'è l'inserimento dell'Ocri e l'allerta precoce. Il fatto che le aziende devono essere portate all'Ocri all'ospedale con la possibilità di essere risanate, quindi non devono essere ricoverate presso l'Ocri in stato di decozione. Concentriamoci sulla figura dell'imprenditore sfortunato. Qui quasi nessuno sta focalizzando qual è il vero compito dell'articolo 13. L'articolo 13 prescrive che ci sia un limite, non è un livello di allerta, ma è un limite superato il quale per tre mesi di fila si passa da essere semplicemente degli imprenditori sfortunati, cioè da persone normali che ci hanno provato, che non hanno fregato nessuno, che non sono delinquenti, quindi non sono dei bancarottieri. Se si supera questo limite per tre mesi di fila, dall'essere semplicemente sfortunato si passa ad essere un bancarottiere, quindi si va nel penale. Questo limite deve essere stabilito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, quindi non è un alert, ma è un limite, cioè è il limite che separa la rianimazione dalla camera mortuaria. Quindi un'azienda che è in stato di decozione deve fermarsi, portarsi all'Ocri, vedere se l'Ocri in qualche modo può risanare la crisi, oppure se l'Ocri non ci riesce, passare per l'articolo 67, quindi per un piano attestato, per un 180 dobbis, per un concordato, oppure per la liquidazione giudiziale. Facendo questo atto di autodenuncia, di autoricovero, l'imprenditore rimane sfortunato e non è bancarottiere, e quindi può continuare a fare l'imprenditore senza che abbia delle conseguenze penali. Prima di questo limite c'è la vicenda dell'imprenditore sfortunato che può essere adeguato o inadeguato. Cioè lo Stato con questa riforma dice io privilegio l'azienda, tutelo la continuità aziendale, voglio che la gente faccia impresa, ma attenzione, queste persone, questi imprenditori devono essere adeguati. Se tu guidi una macchina devi avere le gomme a posto, i freni a posto, la revisione fatta, devi avere la patente. Non tolleriamo più imprenditori che improvvisano e gestiscono l'azienda senza adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Che è la prescrizione del 2086 secondo comma. Quando questo succede, cioè che l'imprenditore gestisce l'azienda senza rispettare il 2086, cioè senza avere gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ai fini del rilevamento tempestivo della crisi e della permanenza della continuità aziendale, scatta il sesto comma del 2476. Cioè gli amministratori rispondono personalmente delle obbligazioni sociali quando non hanno adeguatamente protetto il patrimonio sociale. Quindi accade che un imprenditore che sta prima del limite dell'articolo 13, quindi esercita normalmente la sua attività, la gestisce in modo inadeguato, non va in galera, non è un bancarottiere, ma è inadeguato. Quindi deve pagare lui, perché la sua azienda non è stata adeguata ad adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Quindi, ad esempio, deve monitorare sugli indizi di crisi, perché il 2086 parla di intercettare gli indizi di crisi. Lo stesso primo comma dell'articolo 14 parla di intercettamento degli indizi di crisi. Sto leggendo molte stupidaggini a tale proposito, che gli indizi sarebbero un deterioramento degli indici. Attenzione, se la crisi va nei numeri, nel bilancio, quello non è un indizio, è una prova, è una prova che si sta male. L'indizio è quando si perde il going concern, non inteso come possibilità dell'azienda andare avanti, ma inteso, nell'accezione anglosassone, di fare ogni giorno un'azione, delle azioni che diano un futuro migliore. Quando in azienda si fanno delle azioni che non danno un futuro migliore, si sta perdendo il going concern. Faccio un esempio. Azienda sana dal bilancio, quindi abbiamo ROI positivo, quindi un'azienda che produce reddito, margini di struttura allargato positivo, quindi fonti a lungo superiore all'attivo fisso, quindi azienda sana dal punto di vista finanziario. Quindi rating eccezionale, ma magari una lite fra soci. Magari ha una customer satisfaction negativa, cioè una soddisfazione del cliente negativa, o addirittura non rileva la customer satisfaction. Ha un clima aziendale negativo, per cui i collaboratori non sono tesi insieme all'imprenditore, non sono uniti insieme all'imprenditore nel raggiungimento degli OVT e magari fanno alcuni sacrifici in meno. Il portafoglio prodotti oggi garantisce fatturato, ma è fatto da prodotti maturi, cioè oggi fatturano, domani non fattureranno. L'azienda non fa innovazione, l'azienda non fa formazione, l'azienda sta perdendo quote di mercato. Cioè in questa situazione, che guardando gli indici sarebbe spettacolare, in realtà ci sono degli indizi di crisi, dei forti indizi di crisi. Questa valutazione è una valutazione che si fa soltanto con il controllo qualitativo. Questo non vuol dire che il controllo quantitativo non serve, anzi il controllo quantitativo è la base. Se tu non rilevi i margini di contribuzione, il 2086 non l'hai minimamente rispettato. Quindi anche nel caso in cui ci sia un controllo di gestione quantitativo, quindi breakeven, budget, eccetera, necessita l'adozione di un controllo qualitativo e l'unico strumento di controllo qualitativo che misura la persistenza e la continuità aziendale è la balance scorecard di Kaplan e Norton. Quindi, per esempio, gli amministratori dovrebbero adottare una delibera in cui, prendendo atto delle loro responsabilità in vigore dal 16 marzo, quindi già in vigore 2019, del sesto comma del 2476, dovrebbero, prendendo atto di questo, fare una delibera in cui adottano a protezione del patrimonio sociale, quindi per eliminare la responsabilità solidale, uno strumento di controllo basato sulla balance scorecard di Kaplan e Norton. Attenzione! Nel momento in cui un imprenditore sfortunato si ritrova anche inadeguato a dover pagare con i propri beni i debiti fatti dall'azienda, potrebbe dire ad un giudice, caro giudice, io ero talmente inadeguato che per tutto questo tempo ho pagato un commercialista. E il commercialista dov'era? Quando lui doveva consigliarmi cosa fare per ottemperare il 2086 secondo comma sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Lui dov'era? Lui ha una dirigenza super rispetto a me. Io sono un normale uomo di strada, fa il suo lavoro di imprenditore, ma si avvale e l'adeguato assetto organizzativo prevede questo, che ci sia un panel di consulenti che supportino l'attività. Quindi attenzione, cari amici colleghi commercialisti, che il 2086 non è rivolti, il 2476 Sesto Gomma, non sono rivolti solo agli imprenditori, ma indirettamente sono rivolti anche a noi consulenti, che siamo chiamati ad essere parte proattiva e direi anche grazie a Dio finalmente siamo chiamati ad essere parte proattiva perché il cliente ci farà per un servizio all'altro valore aggiunto che impatta direttamente sul futuro della sua azienda, sui suoi debiti, sulla sua serenità, sulla sua tranquillità finanziaria e futura. Ovviamente tutto questo amplificato per altre cento volte sul ruolo del revisore. Il revisore non può prescindere dal misurare la variabile qualitativa. Il primo comma articolo 14 dice proprio che lui deve allertare l'amministratore con una PEC quando perde gli indizi di crisi. Gli indizi di crisi non sono il deterioramento degli indici di bilancio, ma sono esattamente la perdita del going concept della continuità aziendale. Quindi mi raccomando, questa storia dell'articolo 13 che è un alert, non è così, l'articolo 13 appunto è un limite che si è superato, appunto significa che ti stanno portando dalla camera di rianimazione alla camera mortuaria e al cimitero. Ecco, quello è un limite patologico, un limite che separa il delinquente dall'imprenditore sfortunato che ha fatto debito e quindi vuole separare le sue responsabilità. Prima di quel limite c'è tutto un mondo, c'è tutto un mondo collegato al going concept, al monitoraggio della continuità aziendale, al fatto che l'azienda per il 2086 secondo comma deve avere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Seguiteci, segui i miei social, partecipi ai miei eventi, gli eventi sul Cuscotto di Controllo ormai sono stabilmente fissi ogni mese a Roma e a Milano e una terza data è variabile. Segui il sito cuscottodicontrollo.it, nella parte alta troverai gli eventi di Roma, di Milano e delle altre piazze. Un caro saluto, un abbraccio a tutti da Simone Brancozzi.